Il mondo è in continua evoluzione. Non sono solo le costellazioni di satelliti a cambiare continuamente, anche i movimenti tettonici fanno spostare le terre emerse addirittura di 8 cm l'anno, due fenomeni che comportano lo spostamento delle linee di guida e il disallineamento delle traiettorie. Non con il ricevitore Starfire 6000 e con SF3, la ripetibilità SF3 straordinaria e ottenuta principalmente mediante modelli predittivi intelligenti e modelli di algoritmi software. Se avete campi molto lunghi state tranquilli, quando tornerete indietro i segni delle passate coincideranno. Se saltate una linea su campi estesi avrete la certezza che quando ripasserete riuscirete ad acquisire la linea giusta. Se tornate nei campi dopo pranzo, il giorno dopo o addirittura un mese dopo per una diversa applicazione potrete acquisire facilmente la stessa linea. Inoltre il nuovo segnale di correzione SF3 è disponibile ovunque e questo a prescindere dalle condizioni topografiche o dalla copertura della rete mobile.